L'insulta e scappa, dietro non ti scopa. Dopo l'insulta e precari, il web chiede le decisioni di Brunetta, per avere un esempio concreto di innovazione. Brunetta, ho ricevuto 10.000 insulti in rete. Se pubblica una raccolta dei migliori, lo racconto. Ma veniamo ora alla pagina del Trependum. Maroni dichiara, le sberle fanno rinsavire. Ce ne ancora se ne sono. Vittorio Feltri, se fossi Berlusconi, non mi sparerai per questi risultati. Ma non sei Berlusconi. Noi, il redettore del TG Gaudente, crediamo che sia necessario un riporteggio delle schede. Così, tanto per ne chiedere. Tremonti, è possibile ridurre il fisco a 5 imposte. Dire, fare. Borghezio è malmenato in Svizzera. Erano neutrali da 1670. Milano, solidarietà per gli schede primi armati.